Una specie di Me Too, retroattivo, forse legittimo, ma certamente dai contorni surreali. Succede che due bellissimi adolescenti, protagonisti della versione del 68 di Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, si svegliano una mattina, entrambi superati i 70 anni, e decidono di intentare, ma forse tentare sarebbe il termine più appropriato, una causa alla Paramount Pictures per una scena di nudo girata su quel set. Dicono di aver subito un abuso e denunciano una frode e chiedono un risarcimento morale di oltre 500 milioni di euro. Zeffirelli, scomparso nel 2019, avrebbe inizialmente detto ai giovani attori che avrebbero indossato indumenti intimi color carne per la scena incriminata, ma li avrebbe invece filmati parzialmente nudi al momento delle riprese, a loro insaputa. Per l'impianto accusatorio, la scena violava le leggi californiane contro l'indecenza e lo sfruttamento dei bambini.